Aspetta, ok, perché non t'avevo sentito quindi? Aspetta. Bentornati in studio, andiamo ora ad approfondire le notizie che riguardano la capitale dall'inserto del Corriere della Sera che riguarda appunto Roma e la tragedia di Maccarese. Abbiamo cercato di rianimarlo, povero piccolo non c'era già più, abbiamo provato a rianimarlo per non so dire quanto tempo, non ci siamo mai fermati. Luigi Petruzzella, maestra dell'asilo, l'isola che non c'è, continua a volgere lo sguardo verso il canale che ha restituito il corpo senza vita del bimbo di 11 anni. Per oltre 30 minuti ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca al piccolo, ritrovato nel fossato di bonifica di Maccarese. Solo i medici del 118 hanno fermato quel disperato tentativo, ma era ormai troppo tardi per il bimbo, non c'era più nulla da fare. E poi l'inchiesta, morto nel rogo al San Camillo, il PM archivia impossibile qualunque intervento di soccorso. È la conclusione con cui il PM chiede l'archiviazione per la morte di 65 anni, rivolato dal fuoco nel suo letto al San Camillo. E poi un altro caso di cronaca, sono stata massacrata di botte e poi stuprata la drammatica notte dell'Australiana al Colle Oppio. Sono stata massacrata di botte e poi stuprata il drammatico racconto della notte iniziata in discoteca nella zona della stazione Termini, terminata con lo stupro a Colle Oppio, quasi certamente dall'uomo che aveva conosciuto lì. L'incubo della 52enne turista australiana, che domani sarebbe dovuta tornare in patria, invece è ricoverata in ospedale al San Giovanni, riaccende l'incubo delle violenze sessuali in città. Sono state 803 in un solo anno nel 2015, come certificano i dati della Procura Generale. Non sono bastati 78 arresti a scoraggiare gli aggressori, proprio Colle Oppio altre volte negli anni scorsi è stato teatro di altre aggressioni a sfondo sessuale. E poi consiglieri del Movimento 5 Stelle in rivolta. Ora Muraro deve lasciare maggioranza a nervi tesi. Nel giorno in cui Beppe Grillo è a Roma per parlare con i deputati, il nervosismo per la vicenda Muraro cresce. Ieri nella riunione di maggioranza tra consiglieri capitolini e Movimento 5 Stelle c'è una sorta di rivolta. Almeno dieci di loro chiedono di staccare la spina a Muraro, la quale ha querelato Matteo Renzi. Anche il PD ha querelato la sindaca per l'accostamento a mafia capitale. E poi Baobab, accuse e polemiche. L'assessore trovati i soldi. I volontari contavano sulla promessa di un piano B alternativo a Via Cupa. E ieri l'assessore al sociale Laura Baldassarre ha annunciato abbiamo trovato i fondi per una struttura. Sceglieremo il luogo come è stato fatto a Milano. E poi al Tuscolano tre arresti, un altro caso di cronaca, violentata in una baracca. E poi a centropagina l'auditorium a novembre da Gagliano a Sosa. Il ritorno del Jazz Festival. Torna a novembre all'auditorium per l'edizione del quarantennale. La prima del 1976 per l'estate romana. Il Roma Jazz Festival. Il Via Lotto con Joshua Redman e Brad Medau. L'omaggio a Richard Gagliano. E un viaggio a Cuba con Omar Sosa. E poi in taglio basso le notizie sul calcio. Roma-Lazio è già derby champions. Bianco-Celesti terzi a sorpresa. Giallorossi in ripresa. La Lega toglie a Manolas il gol all'Inter. Tra sorprese e conferme è già partito il derby champions tra Roma e Lazio. Entrambe terzi in classifica con 13 punti dopo sette partite di campionato. Stupisce l'exploit bianco-celeste con il semi esordiente Inzaghi in panchina. Mentre i Giallorossi, grazie al successo contro l'Inter, hanno saputo rimettersi in carreggiata. Intanto la Lega ha tolto il gol del 2-1 a Manolas, decidendo che si tratta di un'autorete di Icardi. Dopo questa notizia ci spostiamo sul web per leggere insieme le altre notizie di cronaca che riguardano la capitale. C'è stato un altro agguato in discoteca. Una 17enne è stata pestata dal branco delle ragazze. Presa a pugna, salita in una discoteca alla Dispoli e ora in ospedale con oltre 30 giorni di progno. Si sembra che a colpire sia stato il branco, un episodio allarmante di bullismo tra ragazzine. A quanto pare tutte minorenni, avvenuto al Pinar, locale sulla via Aurelia, frequentato sempre più da giovani a caccia di Movida. Prima le minacce verbali, poi gli spintoni, infine le percosse. Ci spostiamo ora su un altro caso di cronaca che abbiamo letto poco fa, abbiamo ritrovato anche sui quotidiani. Donna australiana violentata e picchiata vicino al Colosseo, violentata, picchiata e derubata. È l'incubo vissuto la scorsa notte da una cittadina australiana nella capitale per un viaggio studio. La donna è stata soccorsa da un passante in via delle Terme di Traiano, nel centro di Roma. È trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni con ferita al volto. Fortunatamente non è in gravi condizioni, ma gli accertamenti medici avrebbero riscontrato una violenza sessuale. La donna sotto shock al momento non ricorda l'abuso sessuale, ma solo di aver ricevuto un pugno in faccia e di essere stata derubata del cellulare e del portafogli. L'aggressione è avvenuta nel parco di Colleoppio, a pochi metri dal Colosseo. Sulla vicenda indagano la squadra mobile e il commissariato Viminale. A quanto ricostruito finora, la donna ieri sera è andata a balare in un locale nei pressi della stazione Termini. Poi è stata vista allontanarsi con un uomo che con ogni probabilità è responsabile delle violenze. Ora si indaga per risalire alla sua identità. Probabilmente si tratta di uno straniero. La polizia sta ascoltando testimoni e cercando di risalire alle persone con cui la vittima ha trascorso la serata. A talvaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e i tabulati telefonici. E ancora su Roma, ragazzi rapinati in pieno giorno su via Ostiense, un arresto. I carabinieri della stazione di Roma, Garbatella, hanno arrestato un cittadino nordafricano di 32 anni che aveva appena rapinato due ragazzi. I fatti sono avvenuti sulla frequentatissima via Ostiense. L'aggressore ha ideato tutto alla luce del giorno. Le vittime stavano passeggiando quando sono state avvicinate da un cittadino marocchino che con minaccia si è fatto consegnare un orologio e due telefoni cellulari. Ne è nata una colluttazione a seguito della quale il rapinatore è riuscito a dileguarsi per le vie cittadine con il bottino. I carabinieri, allertati dalle stesse vittime, sono tempestivamente intervenuti e sulle indicazioni ricevute sono riusciti a stretto giro a rintracciare il rapinatore recuperando la rifurtiva. Il malfattore è stato arrestato e condotto in caserma in attesa del rito direttissimo. E ancora a Roma, corruzione in comune, boom di illegalità. I dipendenti denunciano i colleghi. Procedure d'acquisto illegittime, atti irregolari, trasferimenti anomali. Benvenuti nel comune di Roma dove gli illeciti, segnalati dagli stessi dipendenti, sono il doppio di quelli di Milano. Con un vero e proprio boom che si è registrato nell'ultimo anno, un report della divisione anticorruzione del Campidoglio dice che nel primo semestre del 2016, rispetto allo stesso periodo, i reati sono saliti. E ancora poi a Fiumicino il bimbo di 11 anni annega in un canale del giallo. Il corpo è pieno di ferite. Morire a 11 anni tra il fango e la melma di un canale di scolo. E il giallo a Maccarese dove Alessandro ieri pomeriggio è annegato in un corso d'acqua di via Campostalino. Quando lo hanno estratto dal fiumiciatto, lo aveva il volto ricoperto di sangue. Dopo questa notizia ci spostiamo sull'inserto che riguarda la capitale dell'inserto della Repubblica. E qui di nuovo i conti della Sindaca non sono in ordine. SOS e beni culturali. Il sovraintendente Presicce servono subito 30 milioni per le urgenze. Dalle mura Giannicolenzi alle ville storiche. E ancora l'indagine sua, ma anche Panzironi indagato per le consulenze a Muraro. E poi a centropagina la nostra inchiesta, viaggio nei B&B da incubo, regno di abusivi e truffatori. Le due ragazze spagnole escono dal portone trascinando enormi valigie. Hanno l'aria smarrita, sì siamo stati qui, ma ora cerchiamo qualcos'altro. Non è che sia molto pulito, poi le porte non si chiudono ed è un posto strano. Prima tappa di un viaggio da incubo, quello dei meandi dell'ospitalità aloromana, gestita per lo più da bengalesi che hanno completamente invaso la zona intorno alla stazione Termini, l'Esquilino, Monti e il centro, prendendo in affitto un appartamento dietro l'altro per adibirli a B&B senza seguire però nessuna normativa e senza pagare le tasse. L'inchiesta continua poi all'interno. E poi la lettera. Vivere a Borgopio, un inferno tra pellegrini e fast food. Il professore denuncia e ora apre McDonald's nei locali del Vaticano. E ancora la discoteca, le botte, poi lo stupro, il caso di cronaca che abbiamo letto poco fa sul web. Il racconto australiana grave in ospedale, un altro caso di violenza. E poi la tragedia, il bambino di 11 anni affogato in un canale, inutile i soccorsi. E ancora l'emergenza da San Lorenzo ai Parioli scatta la tolleranza zero a Cassonetto Selvaggio. E poi scendiamo in taglio basso, Maradona e Co in campo per Amatrice. L'appello il 12 tutti all'Olimpico. L'appuntamento per il 12 ottobre, l'invito arriva direttamente dal Papa, motore dell'idea, e da Diego Maradona che da settimane si sta allenando in vista di questa serata speciale, è la seconda partita della pace, dopo quella giocata nel 2014 in cui scesero in campo il Pipe de Oro e il Roberto Baggio. Voglio fare un invito a tutto il mondo per la gente di Amatrice. All'Olimpico daremo una grandissima mano a questa gente che sta piangendo per la sua città, per il terremoto, ha detto Maradona in un video postato su YouTube. L'incasso della partita della pace quest'anno andrà infatti a favore dei terremotati, ma anche delle periferie italiane e argentine di Kinsasa in Congo. È il tempo di mostrare che siamo capaci di fare pace attraverso il gioco e l'arte, ha detto il Papa in un altro video e all'appello hanno già risposto in tanti. Ronaldinho, Crespo, Perli Stagneri, Capello, Di Natale e Gianluca Zambrotta tra gli italiani. A sorpresa potrebbero esserci anche giocatori della Lazio e della Roma, a cominciare da Francesco Totti. Nel pomeriggio partecipanti saranno anche ricevuti da Francesco. E questa era l'ultima notizia per oggi. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.